Non sarebbe nuovo ad Atti Oscini di questo tipo e sulla sua fedina penale graverebbero anche dei precedenti per violenza sessuale. Il 23enne, arrestato dalla polizia dopo essersi masturbato per strada davanti alle finestre del liceo classico Oriani di Corato, tornerà nel carcere Tranise, dove aveva già espiato una condanna a quattro anni di reclusione, tornando libero solo nel febbraio del 2014. I fatti risalgono al 20 marzo scorso. Secondo le testimonianze dei presenti, il giovane aveva proseguito in perterrito nel mettere in mostra le sue nudità, nonostante l'intervento della vigilanza interna e la presenza al piano terra dell'edificio scolastico Coratino di alcune classi della scuola elementare Fornelli. Il 23enne si è allontanato solo dopo aver compreso che erano state allertate le forze dell'ordine, le cui indagini hanno permesso rapidamente di risalire all'identità del giovane. Già nel 2010, poco più che maggiorenne, si era riso protagonista di violenza sessuale, commessa ai danni di una donna aggredita per strada e trascinata dietro una siepe. Malgrado fosse ristretto ai domiciliari, si era poi riso responsabile di atti oscini compiuti nei confronti degli abitanti del condominio situato di fronte a quello dove risiedeva.